Tre persone sono cadute in acqua, una è rimasta ferita e la barca è affondata. È il bilancio dell'incidente nautico avvenuto martedì mattina verso le 9 e mezza nei pressi del canale di Tessera. La barca si sarebbe schiantata contro una briccola. Uno dei passeggeri ferito è stato portato all'ospedale di Venezia, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Per gli altri due non c'è stato bisogno di cure. Tutti e tre sono veneziani. L'allarme è stato lanciato dal pilota di un taxi aqueo che dopo essersi imbattuto nell'imbarcazione che stava affondando, ha soccorso insieme ai conducenti di altre barche di passaggio le persone che erano cadute in acqua. Sul posto, poco dopo, con l'elicottero Drago 71, un'autopompa lagunare e un'imbarcazione da marittima sono arrivati i vigili del fuoco. Oltre alla capitaneria di Porto, la polizia municipale e un'ambulanza. Da una prima ricostruzione sembra che la barca sia affondata finendo fuori dal canale navigabile dopo l'impatto, ma su questo sono ancora in corso accertamenti da parte degli investigatori.